Franco Busciati, la tua più GS Udine domenica alle ore 18, poi lo Sporcanello ospiterà la Tezenis Verona. È una sfida diretta e notica a terzo posto. Che partita vi aspettate? Sicuramente sarà una partita dura, tosta, fisica. In giro di ritorno è durissimo da questo punto di vista perché in incontri qualsiasi squadra gioca con il coltello fra i denti. In più giocheremo contro Verona che è una grande squadra, allenata da un grandissimo allenatore e in classifica i nostri stessi punti. Come sta procedendo il tuo inserimento all'interno della più GS? Fisicamente sto sempre meglio perché comunque essendo abituato un anno e mezzo a giocare un certo tipo di paracanestro, adesso al di là del cambiamento, di lasciare una città, un posto come Brescia dopo tanti anni, ma è soprattutto una cosa tecnica e quindi mi ritrovo spesso adesso con la palla in mano quando magari prima ero abituato a fare cose diverse. Però partita dopo partita mi sento meglio. Fin dall'inizio la tifosiera bianconera ha dimostrato tanto affetto nei tuoi confronti. Ti senti di dire qualcosa ai tifosi di Udine per la partita di domenica? Ma non sono mai stato bravissimo a fare proclami ai tifosi, intanto li ringrazio per l'affetto e spero di ricambiarlo sul campo.